Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Le nuove riduzioni e addirittura in certi casi la totale chiusura dei rubinetti ha portato ancora una volta il Partito Democratico a denunciare gli errori di ACA e Regione Abruzzo sulla gestione della carenza idrica. Intanto a Chieti domenica sera i gestori di alcuni locali commerciali si sono rivolti ai carabinieri per chiedere i danni dopo i disservizi del weekend. Stefano Recanati. Ancora una settimana dal 25 ottobre al 1 novembre di disagi e difficoltà per migliaia di residenti della provincia di Pescara e Chieti a causa della carenza idrica che va avanti dalla scorsa estate. Dall'azienda consortile acquedottistica fanno sapere che le attuali condizioni meteo hanno determinato una riduzione di portata delle sorgenti. Diversa la lettura del Partito Democratico che accusa ACA e Regione Abruzzo di aver sottovalutato il rischio di una situazione verificatasi già nel 2020 oltre a ritardi per quanto riguarda la captazione. Sì, c'è stata sicuramente una sottovalutazione da parte della Giunta regionale in quanto dagli atti in nostro possesso abbiamo potuto verificare che le richieste da parte di ACA risalgono a marzo del 2021 e non a maggio del 2021 come sostiene la Giunta regionale, quindi un ritardo di ben tre mesi che ha comportato una diminuzione del 25% delle risorse di acqua per la cittadinanza. Come Partito Democratico chiederemo al Comune di esercitare un'azione legale nei confronti dei responsabili affinché quantomeno vengano risarciti per il pregresso i cittadini e immediatamente si trovi una soluzione per poter risolvere l'emergenza idrica, della quale ormai si parla anche al di fuori dell'Abruzzo per la gravità del caso. Il Partito Democratico che affronterà il problema domani pomeriggio in Consiglio chiede un cambio di passo per quanto riguarda i lavori di ammodernamento delle reti. Visto che gli unici fondi attualmente disponibili sono quelli del Masterplan. La cronaca a tre persone tra i 28 e i 30 anni, tutti i residenti a Cerignola in provincia di Foggia sono state arrestate ieri sera dagli uomini del reparto volante del commissariato di Atri dopo essere stati colti in flagrante mentre stavano effettuando una rapina nell'ufficio postale di Atri in Largo San Pietro. Gli agenti sono intervenuti dopo essere stati allertati dal 113 per una segnalazione di persone strane all'interno dello stabile. Dopo aver rubato una macchina a Roseto e approfittando dell'apertura dell'ufficio per il pagamento delle pensioni, si sono introdotti all'interno dello stesso indossando una maglia del 118 Abruzzo Soccorso Teramo, travisati con cappellini scuri e mascherine chirurgiche e minacciando con l'utilizzo di due pistole, risultate poi giocattolo, prive di tappo rosso, i due dipendenti e la direttrice dell'ufficio ancora all'interno e si sono fatti consegnare la somma in contanti di euro 7 mila circa. Nell'occasione uno dei dipendenti è stato colpito sulla testa dal calcio della pistola, l'altra dipendente è stata scaraventata a terra e legata con delle fascette in teflon ai polsi e alle caviglie. I tre movimenti sono stati tratti in arresto per rapina aggravata, lesioni, furto e sequestro di persone emessi a disposizione della Procura della Repubblica. Vivo apprezzamento per l'operazione del commissariato di Atri è stato espresso dal prefetto di Teramo, Angelo Deprisco. Carenza di organico in polizia, i sindacati provinciali degli agenti hanno incontrato prefetto e questore di Pescara per chiedere più personale per fronteggiare le emergenze, immigrazione e proteste di piazza. Tra le tematiche affrontate anche la difficile situazione nelle carceri e la problematica contabile-amministrativa. Giuseppe Dintino. Immigrati e no green pass sono ora sulla stessa barca, accomunati dall'essere persone poco gradite dallo Stato. I rappresentanti provinciali dei sindacati di polizia hanno incontrato Giancarlo Di Vincenzo e Luigi Liguori, rispettivamente prefetto e questore di Pescara, per affrontare i problemi più importanti che affliggono gli agenti. In primis la carenza di organico nei vari reparti provinciali. I poliziotti, chiamati a fronteggiare un'emergenza sanitaria senza precedenti, si legge nel comunicato delle sigle sindacali, si trovano a dover affrontare anche le gravi conseguenze sociali ed economiche che ne sono derivate e le proteste in piazza, senza dimenticare, chiosano le organizzazioni, che il paese intero affronta da anni una costante emergenza e immigrazione che non può essere trascurata. Oltre alla questione degli sbarchi, quindi nel 2021 anche i cosiddetti No Green Pass entrano prepotentemente nel dibattito pubblico. Finora in Abruzzo e nel Pescarese solo qualche timida manifestazione, ma ben altri livelli di tensione di piazza sono stati raggiunti in diverse città italiane, come Milano, Napoli e Roma, generando la reazione del Ministero dell'Interno. Durante gli scontri nella capitale del 9 ottobre ha creato scalpore la presenza di un agente infiltrato tra i manifestanti, immortalato da un videoreporter. Stava verificando il moto ondulatorio della camionetta, ha dichiarato in Parlamento la ministra Lamorgese. E dal comunicato dei sindacati pescaresi è evidente che anche in Abruzzo si teme che le proteste dei contrari all'obbligatorietà del certificato verde possano generare problemi di ordine pubblico. La carenza di organico di polizia è anche e soprattutto nelle carceri. La scorsa settimana a San Donato un secondino è stato aggredito da un detenuto, fa sapere la CGL e vi sono problemi di precarietà strutturali e organizzative. Altra questione che interessa i poliziotti del Pescarese è quella contabile amministrativa. Da oltre un anno infatti le spese per le trasferte degli agenti non sono state rimborsate e vi sono ritardi per la corresponsione delle pensioni. Il prefetto, fanno sapere i sindacati, ha assicurato un suo impegno diretto e un intervento immediato. Stava tornando a casa dopo essere stato al bar con gli amici quando avrebbe perso il controllo dell'auto finendo in una scarpata. Perdere la vita nella notte tra domenica e lunedì Fabio Mantini, 28 anni, residente in contrada a Pignano di Castiglione Messerraimondo in provincia di Teramo. Secondo quanto si apprende il giovane, domenica sera si era fermato al bar con gli amici a Bisenti e verso mezzanotte aveva ripreso l'auto per tornare a casa, ma lungo il tragitto per cause ancora in fase di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nella scarpata. Le indagini coordinate dai carabinieri della compagnia di Giulianova proseguono per verificare l'esatta dinamica dell'incidente. Nelle prossime ore la procura potrebbe disporre l'autopsia sul corpo del 28enne. Abbiamo pagina ancora presentata questa mattina a Francavilla al Mare a Palazzo di Città dal neosindaco Luisa Russo, la nuova giunta comunale. Cinque gli assessori con tre donne, un record il servizio di Paolo Renzetti. Ufficializzata questa mattina a Francavilla al Mare la giunta russo, il neosindaco ha infatti nominato i nuovi cinque assessori, compreso il primo cittadino, sono ben quattro le donne in giunta, un vero e proprio record. Sindaco, una giunta rosa, tre assessori oltre al primo cittadino? Sì, una giunta rosa, devo dire che sono molto contenta di questa scelta perché è un segnale che diamo alla città, ma è venuto da sé proprio perché avevo da scegliere tra consiglieri nominati e comunque le competenze spesso le ho ritrovate anche nelle donne, quindi non è stata la scelta di dover far prevalere per forza la donna perché credo che la competenza avesse la priorità. Questi gli assessori con le principali deleghe, Williams Marinelli della lista Antonio Luciani e il nuovo vice sindaco con la delega ai lavori pubblici. Io credo che tutte le deleghe siano importanti e vadano prese con impegno e con sacrificio, questo è quello che ho promesso in campagna elettorale e questo è quello che ho promesso al sindaco che ringrazio per avermi anche dato questa delega alla vice sindaco, l'impegno da parte mia sarà una costanza sicuramente e spero di essere all'altezza di questo ruolo. Leila Di Giulio, lista Antonio Luciani, politiche sociali, istruzione, polizia locale, pubblica, sicurezza, Valeria Spacca, alleanza democratica con l'ambiente, la transizione ecologica e l'agricoltura, Cristina Rapino del Partito Democratico ha avuto le deleghe al turismo, cultura, politiche, giovanili, Domenico Iorio insieme siamo Francavilla con le deleghe del bilancio e programmazione, al sindaco Luisa Russo sono invece rimaste le deleghe dell'urbanistica, demanio, politiche comunitarie, porto e grandi opere, contenzioso, personale, commercio e SUAP. A Francesca Buttari la più votata con 485 preferenze dovrebbe andare la presidenza del Consiglio Comunale. Sarà attiva da domani alle ore 12 la piattaforma poste per la prenotazione della terza dose della vaccinazione anti-covid-19 per i nati fino al 1961. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità per prenotarsi basterà collegarsi all'indirizzo prenotazioni.vaccinocovid.gov.it inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. Possono prenotare la somministrazione solo ed esclusivamente coloro che hanno ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi o l'unica somministrazione del vaccino monodose. Il sistema telematico esclude automaticamente le richieste che non rispettano questo termine temporale. Le stesse in ogni caso potranno essere ripresentate alla effettiva scadenza dei sei mesi. Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800 00 99 66 attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20 oppure utilizzando uno dei 270 sportelli postamat attivi sul territorio regionale pur senza essere clienti poste ma accedendo con la tessera sanitaria. Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo attraverso i palmari a loro disposizione potranno prenotare la vaccinazione. Per la somministrazione della terza dose verranno utilizzati vaccini a RNA messaggero. Alla presenza dei sindaci e dei sindacati l'ASL di Teramo ha illustrato il proprio piano strategico che ridisegna l'assetto della sanità terramana dei prossimi 40 anni. In sintesi l'idea è quella di un nuovo ospedale per acuti, la città della salute, da realizzare al vecchio Mazzini e tre ospedali SPOC, ognuno con una propria vocazione. Il progetto è stato accolto positivamente da tutti. Tania Bonnici Castelli. L'ASL di Teramo ha illustrato al comitato ristretto dei sindaci e ai sindacati la propria idea progettuale per il rilancio dei servizi sanitari in provincia di Teramo. A sintetizzare il piano strategico dell'azienda sanitaria terramana è stato il direttore generale Maurizio di Giosia col fine di condividere sinergicamente con il territorio le idee del futuro assetto. L'idea, esposta dai vertici aziendali, punta alla costruzione di un ospedale nuovo che guarda i prossimi 40 anni, altamente tecnologico e riservato solo ai casi acuti, da 500 posti letto, ampliabili a 600, oltre a tre ospedali SPOC, ognuno con una propria specializzazione e vocazione, ma anche con una sanità territoriale forte, il cui perno sarà la città della salute che sarebbe realizzata al Mazzini, sempre se questo non sarà scelto come sede del nuovo ospedale. La città della salute a Villa Mosca ospiterebbe tutti i servizi territoriali con ambulatori medici, radiodiagnostica, laboratori analisi, un ospedale di comunità, ma anche un centro riabilitativo e tanto altro ancora. I sindacati presenti al confronto, CGL, CISL, WILL e ANAO, hanno espresso apprezzamento e assenso di massima, offrendo una serie di suggerimenti al progetto. Il presidente della provincia, Diego di Bonaventura, invita tutti a prendere una decisione in breve tempo, senza avere paura di fare delle scelte. Si è perso tempo a litigare sul nulla a discapito del territorio. A tirare le conclusioni dell'incontro, il sindaco di Teramo e presidente del comitato ristretto dei sindaci, Gian Guido d'Alberto, che ricorda come sia necessario far fronte comune sul piano strategico dell'ASR. Con responsabilità è opportuno misurare la forza e l'attendibilità di un percorso nuovo che prospetta il futuro della sanità terramana per i prossimi 50 anni. Numeri assolutamente positivi per il progetto Volontart, nato per dare una risposta a tutto quanto ha comportato il Covid con l'interruzione di processi sociali di integrazione. Vediamo il servizio. Facilitare i canali comunicativi, riannodare il filo dei rapporti sociali, acquisire fiducia negli altri. Questi alcuni degli obiettivi che si prefigge il progetto di inclusione sociale Volontart, finanziato dalla Regione Abruzzo e dal Ministero delle Politiche Sociali. Circa 600 ore di laboratori di teatro, cinema e clownerie, con le scolaresche del territorio e 60 ore di laboratorio teatrale, con i detenuti della casa circondariale di Chieti effettuate, tutti in presenza e senza alcuna proroga, nonostante il lockdown e la chiusura delle scuole. Abbiamo potuto sperimentare come la possibilità di ritrovarsi, ancora sia a distanza, ancora non nella possibilità di toccarsi, però di avere una vicinanza fisica di relazione più forte. Abbiamo riscontrato come i bambini e anche i detenuti della casa circondariale di Chieti hanno colto l'occasione all'interno delle attività laboratoriali di aprirsi alla relazione emotivo-empatica che poi è appunto l'oggetto prevalente del nostro percorso. Il doppio canale scuola penitenziario sul quale si è dispiegato il progetto ha fatto emergere una realtà composita ma in grado comunque di reagire e ricostruire un tessuto sociale e comunicativo anche dopo la pandemia. Ritengo pregevole e lodevole questa iniziativa come ne faremo tante altre per cercare appunto di ridurre questo problema di isolamento e cercare soprattutto, come dicevo, di capire quali sono i profili che dobbiamo andare a formare cercando di estrapolare le caratteristiche di ciascun individuo per poterlo reinserire o comunque collocarlo nel mondo del lavoro. La Camera di Commercio di Chieti Pescara offrirà 10 borse di studio per giovani meritevoli di partecipare alla settima edizione del Master in Digital Marketing. Stefano Recanati. Saranno 10 le borse di studio che caratterizzeranno la settima edizione dell'Executive Master in Digital Marketing promosso dall'ente camerale Chieti Pescara in collaborazione con Udanet spin-off tecnologico dell'Università degli Studi. Gabriele D'Annunzio. È un Master che produce tecnici di qualità, professionisti disposti a dare un contributo importante alle aziende dove vanno a lavorare e il nostro dovere come ente camerale supportare tutte quelle iniziative che può migliorare la nostra produzione. Con docenti di fama internazionale ed un programma di 240 ore formative, il Master organizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal PID Chieti Pescara ha l'obiettivo di fermare i digital manager figure professionali capaci di gestire e pianificare un piano di web marketing in tutti i suoi aspetti teorici ed operativi. A disposizione ci saranno 25 posti e le iscrizioni sono aperte fino al 15 gennaio. 240 ore di lezioni teorico-pratiche, passando dai big data ai social media marketing, SEO, advertising, Google, tutto quello di cui uno studente o un'azienda hanno bisogno per essere presenti in maniera adeguata sul mondo digitale. Possono partecipare soprattutto i volenterosi perché il digital marketing è una disciplina dove non si smette mai di apprendere, dove non si smette mai di doversi confrontare con nuove esigenze. L'anno scorso abbiamo avuto 34 partecipanti, ieri l'ultimo ragazzo del master è stato preso da una nota agenzia abruzzese. Stamani al foyer del Teatro Marrucino è stato presentato il comitato costituito per celebrare il centenario della Chieti Calcio. Illustrate anche alcune delle iniziative in cantiere per il 2022. Sergio Zappalorto. 2022 è un anno storico per la calcio Chieti che festeggerà i cento anni. Il presidente del comitato organizzatore Stefano Marchionne ha avvocato. Allora, cominciamo a perorare una causa molto importante. Speriamo che non sia una causa persa. No, è una causa in cui crediamo, crediamo fortemente, tant'è che con un gruppo di altrettanti tifosi neroverdi, siamo dieci che formiamo il comitato, abbiamo deciso di intraprendere questa strada per rendere onore e merito a questo primo secolo di vita della calcio Chieti. Un appuntamento al mese perché nonostante le ricerche storiche che abbiamo effettuato sia all'archivio storico del comune che all'archivio di Stato, non siamo stati in grado di reperire una data ufficiale nella quale è stata costituita la calcio Chieti. Sappiamo soltanto l'anno di nascita, il 1922, quindi unitamente agli altri promotori abbiamo deciso di organizzare per tutto il 2022 delle manifestazioni e quindi spalmarle per tutto l'anno prossimo, almeno una manifestazione al mese. Ce ne puoi fare una sintesi essenziale, almeno gli appuntamenti più importanti, più rilevanti a partire da gennaio? Sì, inizieremo l'8 gennaio con due manifestazioni nello stesso giorno. Il primo faremo una cerimonia per l'inaugurazione di una targa commemorativa del centenario dedicata a tutti i tifosi, giocatori e dirigenti che in questo secolo di vita si sono alternati alla guida della Chieti Calcio. A fine gennaio organizzeremo una conferenza sulle origini dei nostri colori, sul perché il Chieti Calcio è nero verde. Poi a fine febbraio faremo una manifestazione dedicata a noi tifosi, quindi racconteremo l'evoluzione del tifo nero verde partendo dal campo interrabattuta della Civitella fino ai giorni nostri e a marzo invece organizzeremo una serata dedicata a dirigenti e presidenti che sono alternati alla guida della società in questo primo secolo di vita. Mi preme precisare che a ogni evento abbiamo pensato di abbinarci una mostra. Gli eventi si terranno al Teatro Marruccino e le mostre le resteremo qui nel foyer del teatro. Quindi a fine gennaio allestiremo una mostra con le magliette storiche della Calcio Chieti. A febbraio una mostra fotografica sulla curva e sui tifosi nero verdi e a fine marzo allestiremo una mostra dedicata ai trofei che in questo secolo di vita ha vinto la Calcio Chieti. Il servizio ci introduce alla pagina dello sport. Parliamo di Serie C. Ieri sarà pareggio per la Reggiana a Pontedera 2-2. A meno 8 dalla Vetta il Pescara torna al lavoro in vista del match di domenica all'Adriatico contro l'Olbia. Rientrerà Ianes da verificare il recupero di Drudi mentre in grosso si sottoporrà a esami strumentali per conoscere l'entità del problema muscolare che gli ha impedito di giocare a Siena. La gara del Franchi ha confermato lo stato di grazia dell'attaccante Ferrari tra gli elementi cui affidarsi per superare questa fase di difficoltà. In una fase complessivamente negativa per il proprio campionato il Pescara si consola in parte perché ha probabilmente trovato l'uomo gol e il loco Franco Ferrari ha realizzato a Siena la sua quinta reti in campionato, la prima lontana dall'Adriatico, la terza consecutiva dopo i sigilli con Fermana e Modena. In precedenza era andato in gol anche contro Reggiana e Viterbese. Niente male per un giocatore che è stato titolare in campionato solo due volte, la prima alla non aggiornata. Il centravanti argentino che lo scorso anno ha vinto il campionato col Como e che un altro torneo di Cil ha perso all'ultima giornata nel maggio 2019 quando indossava la maglia del Piacenza con Matteassi DS è pronto a prendersi il Pescara ma sempre mettendo davanti il risultato di squadra a quello personale come conferma nel suo intervento nella trasmissione e nel replay di Enrico Rocchi. È più bello, ti dico, non fare quelle vincere con la squadra, c'è più serenità nel gruppo e per quello ho detto quelle cose. Penso che è giusto che così sia, più che a livello personale. Ho lavorato anche tanto di estate per farmi trovare subito pronto come mi sono fatto trovare. Niente, sempre a disposizione come ho sempre detto, sia dal primo minuto o anche da subentrato. Un momento no per la squadra con involuzione di risultati e inevitabile critica. Ferrari lo spiega così. Tanti episodi che ci hanno giocato contro, diciamo, come sempre dico, non abbiamo fatto anche prestazioni come abbiamo fatto due o tre a basso livello ma penso anche ci è voluto un po' per la stanchezza che abbiamo avuto per quelle partite ravvicinate. Però come ho anche detto ieri, anche noi a Cuomo siamo partiti belli forti, poi abbiamo avuto un piccolo calo, ma poi ti dico basta stare sempre sul peso e lavorare come lo stiamo facendo che arriveranno quei risultati, no? No, ti sono sincero, come ho sempre detto, lo dico da primo tifoso, lo sono pure della mia squadra, sono giuste sempre le critiche, è giusto che la gente chieda di più come ha fatto. Però ti dico, la squadra sta volando, la squadra sta bene, siamo tutti con la testa giusta che penso che la cosa più importante è restare uniti e squadra tifosi come staff, come ho sempre detto, in questi momenti particolari, che è l'unica forma di andare avanti così. Ferrari parla anche del suo rapporto con Pescara. Ho saputo del progetto, conoscevo Pescara, ho avuto tanti amici che hanno giocato qua, poi la città mi avevano parlato benissimo e ti dico, con la mia morosa stiamo bevendo, stiamo tomando più che bene perché è una città bellissima, sul mare che ci piace e anche quello ti fa trovare l'ambiente giusto per far bene. Come dice lei, questi anni scorsi ho avuto due o tre infortuni che mi hanno tenuto un po' fuori, però ti dico, per fortuna quest'anno sta camminando per bene, quindi speriamo che continui così. Sempre in Serie C, tra poco alle 15 ripresa degli allenamenti anche per il Teramo in vista della trasferta di Ponte d'Ara contro il Montevarchi sarà anche l'opportunità per fare la conta sugli infortunati. Intanto sabato scorso sugli spalti del Bonolis ad assistere al match contro il Cesena, c'era l'ex portiere del Teramo, Alessandro Tonti, attualmente svincolato e i nostri microfoni non ha negato la sua voglia di tornare a indossare la divisa bianco-rossa. Agna Cantagalli. C'è uno di quei vecchietti che purtroppo, per fortuna per la regola degli under, ancora non trova squadra, è svincolato. Io sono uno di quei vecchietti che non trova squadra un po' per questi regolamenti che di conseguenza ti penalizzano un po', però io sono sempre stato abituato a fare mia colpa, quindi evidentemente qualcosa è mancato. Io sono qui, sto continuando a allenarmi giornalmente per farmi trovare punto e spero in una chiamata e magari chissà del Teramo. Il desiderio mio è evidente e non è neanche da discutere, io a Teramo verrei a occhi chiusi, qua mi sono sentito come a casa, la gente mi ha fatto sentire come a casa, abbiamo lasciato un ricordo, abbiamo, dico perché metto in mezzo anche tutta la squadra della squadra, chiamiamolo miracolo, dopo 102 anni di storia raggiungere un traguardo del genere era impensabile, quindi abbia lasciato un bel ricordo. Per me Teramo rimarrà sempre nel cuore, io spero in un futuro di far parte ancora di questa squadra e giocare per questa città, ne sarei molto contento. Da parte mia l'intento di venire a Teramo è evidente, come ti ripeto, se sei stato qualcosa, qualcosina sì, però per fare le cose bisogna essere in due. Io posso solo farmi trovare pronto, allenarmi e di conseguenza aspettare questa chiamata, sperando che arrivi presto. Sei una piazza di un riscontro insomma. Eh, aspettiamo, aspettiamo questa chiamata con enorme fiducia. E ora il volley nel primo scontro di cartello stagionale. L'Abba Pineto conferma la sua candidatura a squadra protagonista del campionato di A3 e batte in rimonte in 4-7 Montecchio Maggiore. Tesserato stamani il secondo palleggiatore, il classe 2002 Riccardo Martinelli che arriva dalla Consar Ravenna. In A2 femminile cede in 3-7 Altino in casa di Busto Arsizio ma il sestetto del Presidente Papa dà importanti segnali di miglioramento. Vediamo. Pausa per l'Impavida. In A3 altro successo, 3 su 3, per l'Abba Pineto che vince lo scontro al vertice col Montecchio, 3-1 rimonta e si insedia a solitare al comando alla vigilia dell'anticipo serale di sabato prossimo a Porto Maggiore. Pur con gli uomini contati, auguri allo sfortunato Montanaro, il sestetto di Rovinelli cede la prima frazione ma poi in un crescendo Rossignano ribalta tutto e conquista una strameritata vittoria, trascinato da un ottimo Catone in regia. Al resto hanno pensato le bocche da fuoco dei vari Bertoli, link di sabato per Soglia. In A2 femminile cade ancora Busto Arsizio, stavolta un Altino comunque diverso dalle precedenti prestazioni. Altro K.O. tondo ma i parziali a 22, due volte a 23 dicono tutto sull'equilibrio di un 3-0 che amareggia da un lato, ma dà segnali confortanti in prospettiva da concretizzare nello scontro salvezza del Sassuolo nel quarto turno dall'altro. Da segnalare la più che buona performance dalle stili, 13 punti e 43% offensivo, niente male. In B, l'Alba e il Paglieta perdono in trasferta senza riportare punti, scivola al femminile anche la teatina in B1, ma al tie break e al termine di una gara, nelle immagini giocata benissimo e rimonta dalle giovanissime di Piazzese che avrebbero meritato ampiamente di vincere senza l'ingiusto 14-16 di coda. Sul taccuino nero-verde tanti appunti utili per il futuro. In B2, il derby nelle immagini va al Teramo che è vicecapolista e che ribalta il match come quasi in gara 1, approfittando anche delle troppe assenze della Danunziana. Senza storia il K.O. del Montesilvano in quelle di Corridonia, sul campo della prima della classe, in pausa il Gada Pescara 3. Domani alle 21, terzo appuntamento con Pallavolè. In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Proteramo, il nostro settimanale dedicato al mondo biancorosso con la conduzione di Jacopo Forcella e vi ricordo anche che tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG6 a breve saranno disponibili in demanda sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è con le prossime edizioni del TG6.